Oggi l'associazione Cordipelo Onlus Rexky Bassotti realizza un sogno, la Strabassotti, una marcia podistica non competitiva di 3 km all'interno del Parco di Monza. Non ci aspettavamo un successo così eclatante, abbiamo Bassotti da tutta Italia e abbiamo registrati alcuni della Campania, dalla Puglia e dal Lazio. Buona Strabassotti a tutti!